Ciao Tienes Friends, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi per continuare il discorso dell'approccio al cane che abbiamo visto nell'altro video che trovi qua sopra o sotto in descrizione, affronteremo un altro argomento molto importante, precisamente dove andare a carezzare il cane. Come avete visto nell'altro video in cui parlavamo appunto dell'approccio al cane, è molto importante fare una curva per arrivare al cane, quindi è molto importante imparare a comunicare correttamente con un cane. Una volta arrivati però vicino al cane e messi a una certa distanza da lui e aspettato che il cane venga da noi, possiamo andare ad accarezzare il cane. Ma come lo faremo? Il cane sconosciuto, se vogliamo approcciarlo, dobbiamo ricordarci di accarezzarlo col dorso della mano, in quanto ha un valore più basso rispetto al palmo della mano. Quindi andiamo ad accarezzare il cane sconosciuto sempre con il dorso della mano. Ma soprattutto dobbiamo sapere che il cane ha delle aree calde e delle aree fredde. Le aree calde sono delle parti del corpo in cui i cani piace un po' di meno essere toccati. Quali sono? Sono la testa, le zampe e il retrotreno, quindi tutto quello che fa parte del retrotreno, incluse le zampe posteriori. In queste parti è meglio non andare a toccare un cane sconosciuto, perché potrebbe avere delle reazioni che magari noi non vorremmo. Ma questo perché? Semplicemente per comunicarci che mi hai toccato in una zona in cui non ho piacere essere toccato. Quindi è meglio andare ad accarezzare il cane nelle aree fredde. Quali sono? È tutta l'area del fianco, quindi a partire dalla base del collo tutto il fianco del cane e il petto del cane. Queste aree i cani piacciono molto di più essere toccato e l'accettano molto più volentieri. Quindi quando arriva un cane sconosciuto noi dobbiamo ricordarci di utilizzare il dorso della mano ed accarezzarlo con un movimento molto lento, quindi un movimento lento dalla base del collo lungo il fianco che ci porge il cane. Quindi il fianco del cane che troviamo dalla nostra parte, senza andare ad accarezzare l'altra parte del fianco per non andare ad incombere sul cane e quindi magari spaventarlo. Come dicevo, un movimento molto lento. Non andiamo a fargli dei movimenti bruschi tipo shampoo, perché questo andrebbe ad agitare il cane. Mentre noi vogliamo che rimanga tranquillo, quindi anche le nostre carezze devono essere molto tranquille, lente e distese. Ovviamente poi le aree calde non sono zone che non potranno mai essere toccate. Anzi, con il nostro cane sicuramente gli farà piacere darci la zampa o ci sono addirittura cani che proprio per farsi accarezzare porgono il posteriore perché gli piace di più essere grattati appunto nel posteriore. Però è il cane che ce lo viene a comunicare. Quindi anche con il nostro cane dobbiamo sempre ricordarci di andare a rispettare i suoi tempi. Quindi iniziare dalle zone fredde. Pian piano che prendiamo una confidenza e il cane prende una confidenza con noi possiamo incominciare ad accarezzarlo molto lentamente sulle zampe e sul treno posteriore finché non sarà lui ad averne un piacere. E con questo concludiamo un po' l'approccio al cane. Però ricordatevi, approcciateli sempre con i cani perché loro hanno una loro comunicazione e noi dobbiamo conoscerla per capire se il cane vuole approcciarsi a noi o meno e soprattutto una volta che vuole approcciarsi per approcciarci correttamente. Quindi senza creargli un disagio, anzi fargli vivere questa conoscenza con felicità. Spero di esserti stato utile. Se questo video ti è piaciuto non ti resta che mettere un bel mi piace, commentare dicendo tutto quello di cui vorresti parlare e soprattutto iscriverti al canale ed accendere la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Ora tocca alla Springhi per il salutino. Ed eccoci qua. Quindi un saluto da Tiz e Spring di TNSProject.com